Strepitoso successo per l'istituto comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli che con la classe quinta primaria e le classi della secondaria di primo grado di Giungano ha partecipato al concorso Matematica e Realtà promosso dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Perugia portando a casa diversi premi. Il progetto MR coordinato dal professor Giuseppe Sica è stata una sfida di alto valore formativo rivolto a studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Punto centrale della proposta è stata l'interazione tra il mondo reale e il mondo matematico allo scopo di promuovere nei giovani il principio del problem solving superando la tradizionale logica dell'attività legata alla mera applicazione delle regole. Gli studenti durante questo percorso non sono stati fruitori passivi ma si sono trovati ad essere protagonisti della gestione stessa del progetto che hanno sviluppato organizzandosi in attività laboratoriali di ricerca e sperimentazione. Quest'anno l'istituto comprensivo Gino Rossivairo si è distinto nel concorso nazionale di matematica e realtà dell'Università di Perugia ottenendo una menzione di merito della giuria per la ricchezza e l'originalità delle proposte presentate dal team docente Giuseppe Sica, Antonia Iannuzzi, Giulia Mastroianni e Antonella Santomauro. Ha ottenuto inoltre un secondo posto come migliore comunicazione presentando un lavoro sui templi di Pestum dal titolo Ai Templi del Coronavirus realizzato dagli alunni della classe quinta scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Giungano. Bilanceri Francesco, Comunale Marco, Di Luca, Francesca, Manganelli, Melissa, Orlotti Francesco, Orlotti Luigi e Passaro Maria Elena. Docenti Tutor Antonia Santomauro, Giulia Mastroianni per la categoria Super Junior.